www.mesmerism.info Che hai fatto? Ma dove si chiudono? C'è una parte. Andiamoci in una casa. Andiamoci in una casa. Andiamoci in una casa. Andiamoci a fare un giro insieme a noi. Ma perché a te che te ne fò? Mi fò perché è sordo. Voi? Allora c'è la sordo che non la facessi più a tocco di Doriù. Ma no. Sono meno a tocco. Ando. Sono meno a tocco. Ando no. Sono meno a tocco. Ando! Ando! Siamo! Aiuta! Più veloce, Silvio, più veloce. Li devi dire forza, via, via, via. Avanti, dimostra le sue decisioni. Aiuta! Ando! 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 Vai, macchina la sordo. Ok, va bene. Buona e azione! Anche chiedeci, andiamo prima dopo il tuo e poi... Andiamo dopo il tuo. Io perdo una battuta di Elena. Importantissima. Eh, qual è? Dimmi la verità, stavi scrivendo un altro libro. Dimmi la verità, stavi scrivendo. Ma che stai dicendo? Stavi scrivendo un altro libro. Ancora questi libri. Io le soppostelle, no? Questo è brutto. Invece più... Non sei, capito? È come se ti... Se fassi del contatto. Eh... Scusa, ho getto un'orince. Se vuoi ti aspetto. Ho getto a Carmela che paga a mia casa sui. E vorremo. Silenzio, per favore. Azione. Volevi un libro? Scegli quello che vuoi. Qua è piena di libri. Non la fare andare via, capito? Cioè, lei sta faccio qua. Lei sta ancora con mezzo corpo dentro quando la fermi. Ok? Eh, l'ha già preso. Hai le idee chiare? Ottima scelta, Moby Dick. Facciamo così. Finisce il carrello e se ne va. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Allora... Silenzio ed è... Azione. Sono proprio contenta di vederti, Leno. Anche io. Che è chauvo, ormai c'è tutto il fiume, non la fiume, un belico e non c'è pure. C'è tutto la prima, un belico inizia di benzo. Che è neri. Un belico inizia la bianza del fiume, è finito inizia. Un belico inizia. L'azardo si sono controllo. No, non c'è. Un belico inizia. L'orevo, Grazie a tutti.